Ciao bentornati io sono Pasquale. La crisi che la pandemia sta andando a scatenare fa sorgere numerosi dubbi agli investitori a qualunque livello. Se il mercato azionario per quanto volatile è nel lungo periodo un mercato molto solido per quanto riguarda invece il peer-to-peer lending e le piattaforme che si occupano di questi investimenti, questa crisi pandemica è in realtà secondo me un primo banco di prova che andrà a provare quali piattaforme sono quelle solide e quali invece saranno solo dei castelli di sabbia. Ma come posso riassumere la situazione generica di questo tipo di tipologia di investimento? Oggi cerco di darti la mia personale opinione in questo video. Prima di iniziare come sempre volevo ricordarti che è un'ottima fonte di beneficenza, almeno per me, iscriviti a questo canale, cliccare la campanella delle notifiche e lasciare un bel mi piace e condividere questo video. Oltre al fatto che in qualunque momento della tua giornata potresti anche andarmi a sostenere su Patreon. Io so che sei una persona dal cuore grande e d'oro e lo farai. Bene, l'industria del peer-to-peer lending di per sé è relativamente nuova, giovane, se paragonate ad altre tipologie di investimento. La stessa in realtà non si è mai andata a trovare a dover affrontare una crisi di mercato vera e propria come quella che è in corso in questo momento e che secondo il mio modesto parere si trova solo in una fase iniziale o subito dopo quella iniziale. Sta praticamente sbocciando. Fatto che poi molte piattaforme non siano particolarmente chiare nella loro selezione dei loan originators e addirittura sui loro bilanci e progetti è un altro punto a sfavore di questa categoria di investimento. Ma qui però non voglio generalizzare e puntare il dito su chi molto probabilmente vuole fare la cresta ad altre persone, vedi e investio, ma in realtà più analizzare il mercato in generale di per sé per cui come questo possa andare a impattare le piattaforme, quelle serie regolamentate per bene e mi riferisco ad esempio a piattaforme tipo Mintos, Groupiro, Bondora eccetera. Perché il problema è che se queste piattaforme che sono solide e ben piazzate sul mercato possono andare in crisi allora ci sono dei grossi problemi in corso. E i problemi in realtà ci sono veramente. Nel mese di marzo la moltitudine di email e video dei vari CEO di queste piattaforme che vogliono andare ad assicurare gli investitori sulla solidità delle stesse è già di per sé secondo me un piccolo campanello di allarme. In primis perché sia che ci sia la paura della fuga dei capitali e per cui che andrebbe a ridurre la liquidità in generale delle piattaforme stesse è di conseguenza dei non originators e per cui ha cascato anche il pericolo che alcune di queste possono poi andare a fallire per questa conseguenza. Il piccolo campanello di allarme potrebbe essere una eccessiva ad esempio lentezza nella liquidazione degli interessi o peggio ancora nei pagamenti relative alle richieste di prelievo dalle piattaforme. Ho sentito dire che le piattaforme al momento, anche quelle serie, possono metterci uno o due giorni in più del solito. Niente di preoccupante secondo me ma è sicuramente un piccolo alert, una lucina rossa che va a lampeggiare. La vera problematica è invece legata secondo me ai richiedenti dei prestiti, siano essi privati o delle aziende. È ovvio che in questo periodo di pandemia mondiale dove la maggior parte delle aziende e per cui i lavoratori in ambito mondiale sono chiuse e per cui i lavoratori sono chiusi in casa è sicuramente una componente di forte impatto su questi business. Se la gente non va a lavorare o è in disoccupazione e quindi non riceve gli stupendi o riceve ridotti per cui può andare in conto a dei ritardi nei pagamenti delle rate di questi prestiti. Se poi si va a parlare di aziende senza produzione e per cui senza possibilità di andare a fatturare e di ricevere pagamenti e anche a loro volta appunto di non incassare per cui anche avendo un cash flow che tende a calare o essere assente è una situazione completamente peggiore, è un effetto domino. Di conseguenza i loan originators non ricevono i pagamenti delle rate per cui anche questi ultimi possono rischiare un default. Purtroppo secondo me il credito a consumo ma anche quello relativo all'industria e alle aziende è impattato in maniera prepotente dalla crisi economica in generale. Una crisi di liquidità non fa altro che creare delle situazioni a volte insostenibili per una semplice famiglia. Così poi è anche peggio per una multinazionale. La mia quota parte di investimento dedicata al peer-to-peer lending è di poco sotto al 5% dei miei investimenti totali fermandosi a un 4.7% circa. Avevo già intenzione di dismettere questa tipologia di investimento o dedicarle ancora meno spazio. Al di là della pericolosità dello stesso per cui del peer-to-peer lending era anche per una questione di soddisfazione personale emozionale. Mi piace molto più fare dello stock picking. Mi piace più studiare dei bilanci aziendali che mettere soldi da una parte e di vedere come va. E il problema di fondo è proprio questo. Molti neofiti del mondo degli investimenti hanno pensato che avendo accesso a una modalità di investimento che di per sé è semplice come questa del peer-to-peer lending fosse in realtà una manna dal cielo che potesse garantire alti rendimenti con nessuna o bassa conoscenza necessaria. Ma non è così. Il peer-to-peer lending è uno degli investimenti più rischiosi che esistono. Non esiste una regolamentazione armonizzata a livello europeo e nazionale e questo fa trovare alle piattaforme, quelle meno chiare soprattutto, molte scamotage. Tutte le tipologie di progetti finanziati sono sempre ad alto o altissimo rischio. Molte volte le informazioni sui siti della piattaforma o dei loan originator sono vaghi e poco chiari. Questa crisi, come dicevo all'inizio, è il primo banco di prova per il peer-to-peer lending e da qui, secondo me, vedremo le aziende venire decimate perché lo tsunami economico deve ancora venire. E avere i soldi del proprio investimento spalmato su tante piattaforme di peer-to-peer lending, a mio parere, non ha senso allo stesso. Si rischia il mercato totale del peer-to-peer lending in generale. Non è detto che tutte le piattaforme in cui abbiamo investito non possono fallire e andare in default. Per cui mettere soldi solo in queste tipologie di piattaforme deve poter significare che questi soldi si possono andare a perdere senza che questo vada ad impattare la nostra vita di tutti i giorni. E se invece questi soldi non si possono andare a perdere, allora non bisogna investire nel peer-to-peer lending assolutamente o magari dedicare una piccolissima parte in questa tipologia di investimento. Io non sono un consulente finanziare, queste sono solo le mie opinioni, ma a prescindere da ciò, qualunque sia la tua tipologia o strategia di investimento, devi sempre tenere in considerazione che devi sapere sempre dove vai a mettere i tuoi soldi. Valutare sempre i rischi e i possibili ritorni economici e solo dopo andare a capire come andare ad impiegare il tuo denaro. Per cui posso fare, diciamo, posso darti una conclusione a questo video sicuramente dicendoti che non credo che andare ad investire nel peer-to-peer lending sia adesso conveniente. Io ho messo in conto di poter perdere quei soldi che sono andato a investire in questa tipologia di investimento. Ed è per questo che ho dedicato solo un 5% scarso del totale del mio capitale investito alle piattaforme di peer-to-peer lending. Fino ad ora la situazione sembra ancora buona, ma non credo che lo sarà a lungo. A prescindere, non credo che il futuro avrà per me altri investimenti corposi in una qualsiasi piattaforma del genere. Ma vedremo, boh, chi lo sa, mai dire mai, magari questo settore ne esce vincente e ci metto un po' di soldi in più. Ci sono sicuramente modi meno rischiosi per ottenere rendimenti buoni e simili al peer-to-peer lending. Basta non essere greedy, come dicono in inglese, troppo avidi, troppo ingordi di denaro, insomma. La protezione del proprio capitale è secondo me la cosa più importante da tenere in considerazione qualunque sia il tuo tipo di investimento. Bene, lasciami un momento qui sotto e fammi sapere cosa ne pensi. E se anche tu stavi pensando di andare via dal mercato del peer-to-peer lending o di fermare i tuoi investimenti, o comunque invece stavi pensando di continuare a investire. Se il video ti è piaciuto, mi raccomando, devasta il pollice in su, iscriviti al canale, clicca la campanella e le notifiche, regalami Daltanius perché gold e le crema zingate l'ho già chiesti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!